ragazzi ci siamo partiamo di nuovo e non sappiamo se torniamo l'importante è che arriviamo a parigi insieme a tutti Ragazzi siamo arrivati sulla terrazza delle gallerie Lafayette Però non si vede un cazzo Dov'è il bidet? Bastardi Ci hanno rubato il bidet Richie sei pronto? Sì ora ci sono Sì ora ci sono Sì ora ci sono Andiamo a fare colazione e poi abbiamo in giro assurdo Buongiorno Parigi 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 Buongiorno Parigi